Salve a tutti, sono Rosario Giordano del Piemolo. Oggi prepariamo per il contest una frittadina siciliana con salsiccia. I procedimenti sono la bechamel, burro, latte e farina e sale e pepe quanto basta. Poi cociamo i bucatini, poi iniziamo a soffriggere la cipolla con il pomodoro san marzano e a metà cottura mettiamo la salsiccia. Nel frattempo mettiamo le melenzane a cubetti a friggere nell'olio frutturista e quando è pronto tutto iniziamo ad amalgamare per farla raffreddare in frigo, 2-3 colore massimo. Poi questa frittadina l'abbiamo abbinata a questa birra Fravolo Stifa con la dolcezza del pomodoro san marzano e le melenzane con un sapore astro e delicato della birra per fare un buon sapore di tutti e due insieme. Grazie Grazie Grazie